Buona personalità, buona sera, piacere, la musica mi accompagna da sempre, lei mi correga se sbaglio, il papà Giovanni ti affascina, ti inizia alla musica, no, lo studio della chitarra e poi è inutile citare i successi dai nastri del vento ai music awards, l'ultimo album, l'abitudine di tornare, questa piccola magia è un brano sul tema della maternità e lo descrivi in maniera molto felice, profonda, privata, perché grazie a Carmen Consoli e da un microfono, aspetta, aspetta, grazie a tutti, buonasera, grazie a tutti, io sono molto felice di aver ricevuto questo premio, non so neanche se me lo vedo, però lo vedo, ma come no, ma certo, non so che sono qua se lo vedo, vorrei dedicarlo a mio papà che oggi sarebbe stato molto orgoglioso. Quel papà che ti, no, che ti disse la musica è bella, frequentala. Grazie, grazie. E grazie a voi, papà, prevediamo per la sua musica. C'è anche l'istotipo delle ore. La rosa in mano, ecco.